A 4 anni dal sisma abbiamo valutato quali sono quei comuni tra i 60 che fanno parte del perimetro delineato nel 2012 che oggi hanno completato la ricostruzione privata, cioè hanno terminato la ricostruzione delle case e delle imprese. Sono 25, quindi è un numero molto consistente, quindi questo ci permette di dire che ad oggi noi avremo 35 comuni che sono quelli su cui andremo a concentrare i nostri sforzi nei prossimi mesi, nei prossimi anni perché anche loro possano completare al più in fretta possibile il rientro nelle case per i cittadini e chiaramente all'interno delle imprese, i lavoratori e gli imprenditori.